guardate cos'è Corso Francia noi siamo col mezzo da sbarco guarda una donna no vabbè non sappiamo che è successo guarda quella guarda quella guarda il motorino di questo quello con la moto ancora va l'autobus sta uscendo dai tombini guardate che cos'è guarda si è sfondato di strada è cascato l'autobus guardate no vabbè se fosse fermata la macchina pensate che oggi sei per barra o no quello che potrebbe essere guardate